Buonasera da Infostudio, mercoledì 17 ottobre. Ha lasciato la sua casa di Riace poco dopo le 6 di questa mattina, Mimmo Lucano non ha fatto molta strada in uno dei paesi del circondario, a pochi chilometri di distanza da Riace, non sarà difficile sapere dove si trova e presso chi è ricoverato. Però per il momento quasi che si volesse proteggere la sua privacy ancora non c'è tanta insistenza su questo punto che peraltro in questo momento diventa persino secondario dopo il provvedimento col quale ieri il Tribunale del Riesame, revocando gli arresti domiciliari, ha disposto però nei suoi confronti il divieto di dimora. Mentre a Riace è rimasta Tesfaun Lemlem, la ragazza, la compagna etiope, di origine etiope proprio di Lucano, che probabilmente insieme ai numerosi volontari che da anni collaborano con lui e l'amministrazione comunale provvederà a proseguire l'attività di assistenza ai circa 150 migranti che ancora si trovano in paese. Raggiunto telefonicamente da Lanza, Lucano ha detto di non avere ancora deciso dove andare. Devo trovare una casa ma ci sono amici che mi sono vicini in questo momento e mi stanno assistendo. Mi ha rammaricato, ha detto ancora Lucano, aver dovuto lasciare Riace. Penso che la mia azione sia stata utile per dimostrare che la Calabria non è solo terra di Indrangheta. Sono contento per il fatto che il mio sia diventato un caso nazionale e se ne parli dappertutto e spero che nei prossimi giorni mi venga tolto il divieto di dimora in modo da consentirmi di tornare a casa. Rispetto il lavoro di tutti, anche dei magistrati, e sono fiducioso nel futuro. E poi credo anche che la verità, considerata pure la decisione dei giudici di revocare il mio arresto, ha detto ottimisticamente Lucano, stia emergendo piano piano. Oggi intanto il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha fatto sapere, ovvero lo ha fatto sapere uno degli avvocati di Lucano, che il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria non ha ancora fissato l'udienza per discutere il ricorso presentato dalla Procura di Locri, che è rivolto naturalmente contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, che come sappiamo ha accolto solo parzialmente le accuse contestate al sindaco di Riace. Uno dei due legali, perché si tratta di Dacqua, Antonio Dacqua, l'altro è l'avvocato Mazzone, che nel primo poveriggio è arrivato a Riace, si è fermato per pochi minuti in attesa di una donna e di una bambina, entrambi extracomunitari, con le quali poi si è allontanato senza fare altri commenti. Il ricorso della Procura di Locri mira a far contestare a Lucano anche i reati di associazione per delinquere, concussione, truffa aggravata, abuso d'ufficio e malversazione, che non sono stati accolti nell'ordinanza con la quale il 2 ottobre sono stati disposti i suoi arresti domiciliari. Intanto con un tweet, Beppe Fiorello, che in persona Lucano, nella fiction che non è più andata in onda, era stata sospesa alcuni mesi fa, dopo che il sindaco di Riace era finito sotto inchiesta, dicevo l'attore, fratello del più celebre Rosario, su Twitter ha scritto Mimmo Lucano, il tempo ti darà ragione, hai regalato un sogno al mondo e lo faremo vedere, ti hanno isolato e fatto fuori come fossi il peggiore dei mafiosi. A proposito di mafiosi, un sequestro plurimo, quello che è stato operato dalla guardia di finanza di Lamezia Terme e di Catanzaro e che ha riguardato esponenti della malavita classica, affiliati alle cosche di Lamezia, Cerra, Torcasio, Gualtieri e Giampà, e poi alla cosca Anello di Filadelfi e ancora ai Gallaci e Gallelli di Guardavalle. Ma questo sequestro, ripeto, sono più provvedimenti che sono stati accorpati per ben 14 milioni di euro, riguarda soprattutto i beni di una persona. E questa persona è Franco Larupa, ex consigliere regionale, è stato eletto con l'Udeur, ha svolto una sola consigliatura fra il 2005 e il 2010, che per tre volte è stato sindaco Diamantea. 34 fabbricati, 16 appartamenti, 2 ville di lusso, 9 imprese, 40 terreni, 22 autoveicoli. E questo è il bottino sottratto dalla guardia di finanza alle cosche Cerra, Torcasio, Gualtieri e Giampà di Lamezia Terme, Gallace e Gallelli di Guardavalle e Anello di Filadelfia, ma soprattutto all'ex consigliere regionale ed ex sindaco Diamantea, Franco Larupa, condannato in via definitiva per scambio elettorale politico mafioso. Ben quattro dei sei distinti sequestri ordinati dalla procura antimafia di Catanzaro e ben nove dei 14 milioni di euro dell'intero ammontare dei beni sequestrati riguarda proprio Larupa. Tra essi c'è la quota del 50% dell'immobile che a Cerra d'Aiello ospitava la casa di cura Papa Giovanni XXIII, una lussuosa villa sul lungomare di Amantea, un bar, sempre ad Amantea, un'azienda agricola e 32 terreni che si trovano a Cleto, 13 fabbricati, 3 auto, una delle quali di russo, due polizze assicurative e diversi conti correnti. Larupa è da almeno 20 anni protagonista della scena politica del Tirreno-Cosentino. Era stato eletto al Consiglio regionale nel 2005 con l'Udeur dopo essere stato consigliere comunale, assessore e per tre volte sindaco di Amantea. Il suo nome comparve nelle inchieste Nepezia ed Omnia, nella quale venne condannato per voto di scambio con la cosca Fora Stefano di Cassano Ionio. Alla mezza i sequestri hanno colpito Luigi Trovato, ritenuto affiliato alla cosca Giampà, al quale sono stati sottratti 20 fabbricati tra Lamezia e Pianopoli, tre autosaloni, un bar nel centro di Lamezia e conti correnti per un valore superiore a un milione e mezzo di euro. Già in passato Trovato era stato coinvolto in un'inchiesta sulla criminalità organizzata e condannato per armi prima che la Cassazione annullasse la sentenza, rinviandola alla Corte d'Appello. A Nino e Teresa Cerra, entrambi condannati definitivamente per associazione mafiosa, sono stati sequestrati 15 appartamenti ed una lussuosa villa a Lamezia, un appartamento e un negozio di abbigliamento in provincia di Firenze, tre terreni, un'impresa nel settore del movimento terra, le quote di un call center e 14 veicoli, 10 auto e 4 moto. Colpiti dai sequestri anche i beni, valore di circa un milione di euro, di Domenico Origlia di Guardavalle e del vibonese Francesco Malamace, entrambi condannati per estorsione aggravata, il primo a 12 anni e 9 mesi nell'ambito dell'operazione Mitos, il secondo a 4 anni e 10 mesi a seguito delle operazioni Domino ed Effetto Domino. I sequestri hanno riguardato un fabbricato a Guardavalle, un'impresa del settore del legno che operava a Santo Nofrio e nella Val di Chiana, in provincia di Arezzo, 5 auto e diversi conti correnti. Stamattina presso la caserma Soveria Mannelli, sede del Comando regionale della Guardia di Finanza e del Comando provinciale. Nella Guardia di Finanza si è tenuta la conferenza stampa, ascoltiamo adesso le dichiarazioni del Comandante della Guardia di Finanza calabrese, il generale Contini e del Comandante invece del nucleo di polizia economica della stessa Guardia di Finanza, delle stesse fiamme gialle, Carmine Virno. Non abbiamo scoperto niente di nuovo rispetto al passato, abbiamo sempre saputo che molte persone vivevano una vita al di sopra delle righe, sicuramente al di sopra delle loro possibilità economiche dichiarate. Cosa è cambiato rispetto al passato? Sono cambiate le possibilità che abbiamo noi, gli strumenti che abbiamo noi, che oggi ci consentono di incrociare dei dati sempre in maniera più capillare, in maniera tale da avere dei dettagli specifici sulla vita comportamentale, sulla vita invece dichiarata e laddove vi siano delle difformità importanti, come nella fattispecie procedere ai sequestri. C'è anche effettivamente un provvedimento che ha colpito la Rupa Franco, soggetto un politico eletto al Consiglio regionale nel 2005, un soggetto importante, è stato sindaco, vice sindaco, assessore del Comune di Amantea, ed è stato anche condannato per 416 ter, vecchia formulazione, in quanto ha avuto un rapporto di scambio, un voto di scambio, con un soggetto della cosca di Fora Stefano. Questo non è stato soltanto uno dei, per quanto riguarda l'aspetto soggettivo, uno degli elementi che è stato visto. Naturalmente poi è stato visto anche l'aspetto patrimoniale, nel senso che si è andata a ricostruire quella che è la capacità economica sua e della sua nucleo familiare. Ed le attività ci hanno consentito appunto di sequestrare nei suoi confronti un patrimonio di 9 milioni di euro. Naturalmente questi sono accertamenti che partono dagli inizi degli anni 90. La Procura di Castrovillari ha chiesto una nuova proroga, stavolta fino alla fine del 2018, per concludere le indagini sulla morte di Donato Bergamini, il calciatore del Cosenza trovato morto il 18 novembre del 1989 sulla Statale 106 nei pressi di Roseto Capospulico. La notizia l'ha data Sky Sport, secondo la quale il pubblico ministero Eugenio Facciola, che è il magistrato, il procuratore di Castrovillari, che ha riaperto il caso indagando per l'omicidio l'ex fidanzata di Bergamini, Isabella Internò, e il conducente del camion che passò sopra il corpo del calciatore, Raffaele Pisano, ed il marito della Internò, Luciano Conte, un agente di polizia indagato per favoreggiamento, diceva Facciola ha chiesto una proroga dei termini per concludere le indagini, che conterebbe comunque di portare a termine entro la fine di quest'anno. La procura ha esposto la tesi, da sempre sostenuta dalla famiglia di Bergamini, che il calciatore non si sarebbe affatto suicidato, ma sarebbe stato ucciso per poi inscenare un finto suicidio. Ancora dei crolli all'interno delle aule in una scuola di Catanzaro, questa volta alla Todaro Lampasi, una scuola media, sarebbero caduti quest'oggi pezzi di cornicione e di marbo. La notizia l'ha data il Codacons, pronunciando anche un esposto alla procura di Catanzaro. Solo per una fortunata coincidenza, ha affermato il vicepresidente nazionale dell'Associazione Francesco Di Rieto, che ha presieduto a lungo il Codacons Calabria, fra le altre cose, il crollo non ha colpito i bambini che frequentano il plesso. I detriti sono finiti infatti in prossimità della passerella di accesso alle classi. Continuare ad ignorare lo stato di assoluto degrado in cui versano le scuole, in attesa che si verifichi una tragedia, ha detto ancora Di Rieto, è da perfetti irresponsabili. Il Codacons chiederà alla procura di accertare eventuali responsabilità ed eventuali omissioni o negligenze anche in questo episodio, perché non è il primo esposto che il Codacons presenta. Viveva in Argentina, però percepiva una pensione dall'Inps in Italia. Lo ha fatto dal 2015 al 2018 e in tutto ha messo insieme circa 30 mila euro, somma per la quale adesso sono state avviate anzi le necessarie procedure per il recupero. Una persona è stata per questo denunciata dalla Guardia di Finanza di Tropea. Non risiedeva in Italia, vi faceva ritorno solo per brevi periodi e quindi non era in possesso dei requisiti che sono previsti per intascare l'assegno, uno dei quali prevede proprio la residenza stabile e continuativa nel nostro Paese. Era un incontro dovuto, nel senso che avendo nominato il Presidente regionale della Lega delle Cooperative, Assessore al Lavoro, il Presidente della Regione, che stavolta Oliverio non poteva non incontrare le cooperative calabresi, ieri il confronto, questo il resoconto. Era un passo obbligato per il Presidente della Regione Oliverio che dopo aver nominato Assessore l'ex Presidente regionale Angela Robbe non poteva non incontrare il mondo delle cooperative calabresi. Un confronto che è diventato occasione per fare il punto sul sistema delle cooperative in Calabria e durante il quale il capo dell'esecutivo ha ascoltato testimonianze e richieste dei rappresentanti di alcune delle oltre 300 cooperative calabresi che rappresentano un importante spaccato del sistema imprenditoriale della Regione. Un sistema che ha retto bene anche all'urto della crisi ed ha perfino fatto segnare un aumento del numero degli occupati. In Calabria le cooperative si occupano di servizi innovativi, medicina sociale, costruzioni, sistema idrico integrato, immigrazione, politiche abitative e fanno anche ricerca. Il mondo cooperativo, ha ribadito il Presidente reggente, Claudio Liotti, non desidera alcun trattamento speciale, ma formula la richiesta di riformare la legge regionale sulla cooperazione per farla meglio aderire ai processi economici in atto. Noi non chiediamo né corsie preferenziali, ma quello di stare nelle politiche attive dei processi di sviluppo di questa regione. La cooperazione ne ha piena titolarità per quello che rappresenta ormai come elemento consolidato in questa regione. Noi abbiamo esperienze che svariano in tutti gli ambiti di produzione, dall'innovazione alla ricerca, dal sistema idrico integrato alle nuove start-up che abbiamo fatto nascere di recente e che sono inserite in un contesto anche nazionale di imprese fortemente innovative. Quindi quello che noi chiediamo al sistema istituzionale regionale, sia quello appunto della Regione Calabria, ma anche a quello degli interlocutori diciamo di prima battuta, che sono le amministrazioni comunali, e che la cooperazione dentro i processi di sviluppo deve essere trattata come un sistema, come quel sistema di impresa capace di dare risposta occupazionale anche nei momenti di crisi. Perché nonostante le difficoltà che in questi anni il Paese ha avuto, la cooperazione dal punto di vista occupazionale ha tenuto alla grande, perché questo è lo spirito dell'impresa cooperativa. L'assessore Robbe, che conosce benissimo la materia, ha insistito sulla possibilità di dare impulso alla formazione e di lavorare sull'apprendistato per portare avanti la logica della cooperazione in tutti i settori. A febbraio del 2019, Lega Coop Calabria celebrerà il suo undicesimo congresso regionale, al quale Oliverio è stato invitato a partecipare. Il Presidente della Regione ha rivendicato il tentativo del suo governo di spendere risorse importanti per costruire una cultura d'impresa che vada verso uno sviluppo sostenibile ed ha sottolineato come in questo senso dalle cooperative possa aggiungere un contributo concreto. È il nostro intendimento costituire un tavolo per affrontare le problematiche che pone il mondo della cooperazione a partire dalla necessità di dotare la Regione di una legge quadro sulla cooperazione e dalle opportunità che anche le risorse che noi abbiamo programmato a partire dalle risorse comunitarie offrono per quanto riguarda gli spazi che può utilizzare il mondo della cooperazione. Ci sono spazi importanti almeno per quanto riguarda alcune filiere produttive, alcuni servizi nella nostra regione ed è anche un'opportunità per creare lavoro e per creare ricchezza. E infine parliamo della decima convention aziendale del gruppo Punto E che fa capo alla famiglia Perrone gestisce i punti della grande distribuzione Conte e Punto E che è grande distribuzione ma guarda anche diciamo così al cosiddetto negozio di vicinato quindi non superfici enormi una via di mezzo tra il supermercato classico l'ipermercato classico e il vecchio genere alimentare cui almeno nel ricordo molti italiani sono ancora affezionati. E giunta al suo decimo appuntamento la convention aziendale Punto E del gruppo Perrone un momento sempre utile per incontrare i titolari dei diversi punti vendita ma anche per confrontarsi con importanti protagonisti del settore agroalimentare italiano e internazionale Proprio loro sono stati protagonisti del salotto televisivo organizzato per l'occasione da Video Calabria introdotto e moderato da Massimo Tigani Sava direttore editoriale di Video Calabria ed esperto in materie agroalimentari La famiglia Perrone è impegnata nella distribuzione organizzata ormai da alcuni decenni ed oggi presentandosi al mercato calabrese con due brand molto conosciuti Conte e Punto E rappresenta una delle aziende più solide affermate del settore un'azienda capace però di distinguersi dal contesto per la fortissima volontà di mantenere la dimensione familiare con cui è nata In una realtà imprenditoriale dove chiaramente il business la fa da padrona per noi viene prima l'aspetto umano la dignità la fratellanza io come dico ai fornitori dico ai clienti noi dobbiamo essere una famiglia dobbiamo essere una famiglia perché essendo uniti anche quando le cose sono difficili come l'economia italiana calabrese in questo momento soffre diventano diventano più gestibili le cose più facili da gestire perché chiaramente è inutile nasconderlo sia attraverso a livello regionale a livello nazionale un momento particolare economico e grazie a Dio noi continuiamo a crescere sia in volumi sia con nuova apertura avremo prossime aperture noi tutti i mesi abbiamo dalle due alle tre aperture tra i marchi Conte e Punto E quindi questi valori poi sul mercato col tempo pagano alla media di due o tre aperture di nuovi punti vendita ogni mese Conte e Punto E guardano alla valorizzazione e riscoperta delle medie e piccole superfici con particolare attenzione al fenomeno sempre più in via di sviluppo dei cosiddetti negozi di vicinato una logica distributiva in cui dai fornitori ai partner fino ai clienti finali e alle famiglie la dimensione umana e la solidità dei rapporti interpersonali costituiscono un punto di forza imprescindibile e vincente come sottolinea anche Alberto Balocco presidente e amministratore delegato dell'omonima industria dolciaria piemontese noi abbiamo i piccoli paesi dove ci sono i negozi di prossimità dove è piacevole andare a fare la spesa non facendo troppi chilometri e potendo comprare quotidianamente il fabbisogno fa parte anche forse della cultura del nostro paese ma poi c'è un'attitudine al contatto con le persone che è diversa andare a fare la spesa in un piccolo punto vendita significa trovare chi ti taglia il formaggio il salame e ti parla ti chiede come stai ed è un rapporto che gli italiani adorano all'evento della famiglia Perrone ha partecipato l'editore del gruppo televisivo Video Calabria Salvatore Gaetano che ha avuto modo di ribadire alcune delle azioni strategiche in atto tra le quali quella riassunta dal progetto Io scelgo Calabria In chiusura vi ricordo il nostro sito videocalabria.tv e il sito news tgcal24.it in primo piano in questo momento sia l'ennesima ricetta per battere l'andrangheta che è quella riproposta oggi in una conferenza stampa dal procuratore di Catanzaro Gratteri colpire il patrimonio per fiaccare diciamo così le cosche e poi appunto i sequestri operati dei quali abbiamo parlato ampiamente con un servizio le dichiarazioni degli investigatori chiudo dicendo che da questa sera la nostra informazione si arricchisce e ritrova dei vecchi amici che sono quelli dell'agenzia televisiva vista di Roma si arricchisce di contributi dalla capitale per quanto riguarda l'attività parlamentare soprattutto quella ma anche eventi fatti notizie opinioni che riguardino la nostra regione saranno tenuti in conto chiaramente e quindi da questa sera torna intanto per cominciare subito dopo di noi dopo la sigla il Tg Montecitorio io vi ringrazio per averci seguito con Info Studio vi do appuntamento a domani alle 13.50 buonasera a domani